Musica Scafati operazione My Love 36 provvedimenti cautelari eseguiti all'alba di oggi. Vallo di Diano, boschi in fiamme da giorni, un nuovo incendio sul Monte Vivo a Sala Consilina, l'intervento degli elicotteri regionali. Sant'Artenio, impianti sportivi, botte e risposta tra maggioranza e opposizione. Vallo di Diano, tablet in arrivo per gli istituti valdianesi grazie a strategie per le aree interne e Amazon. Acquara, i cento anni di Nonna Rosa, punto di riferimento per la comunità. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca l'operazione denominata My Love avvenuta alle prime luci dell'alba di oggi. A Scafati e in altri comuni del territorio nazionale i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 36 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Due presunte organizzazioni criminali di cui una a base familiare in cui sarebbero stati utilizzati anche minori di 14 anni per lo spaccio di droga. Tutti i dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla procura della Repubblica di Salerno. Rapporti e contatti con i fornitori del territorio della provincia di Napoli delle aree a confine con l'agro ed internazionali con l'Olanda, luogo di transito abbastanza frequente di sostanze stupefacenti. E' il quadro che emerge dalle indagini della procura di Salerno nell'operazione My Love che ha portato stamani i carabinieri a sgominare due pericolosi organizzazioni criminali dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sì, ma sull'agro cino sarnese stiamo ovviamente svolgendo un'attività di monitoraggio abbastanza, come dire, costante, cercando di ricostruire quelli che sono, come dire, i macro fenomeni criminali nell'ambito dei quali si inseriscono anche vicende come quelle di cui oggi ci siamo occupati. Questo ovviamente è una cosa che richiede un po' di tempo. C'è stato anche un caso che abbiamo segnalato alla procura dei minori, quelli di età inferiore ai 6 anni erano semplicemente figli di una delle persone dedicate al traffico e stupefacenti. Anche questo è un fenomeno abbastanza frequente. Evidentemente, diciamo, chi non si cura, come dire, della formazione del minore però è capace di utilizzarlo perché in quanto persona meno sospetta, diciamo, può sfuggire a quelli che sono i controlli delle forze di polizia sul territorio. Ma anche queste sono cose abbastanza frequenti oramai. Troppi processi pendenti nel distretto di Salerno per il traffico di droga che sarebbero compatibili con un'affermazione che porterebbe a definire la città capoluogo come capitale mondiale della droga. Un'asserzione esagerata per il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, che stamani nel corso della conferenza stampa ha dichiarato un suo impegno per accelerare i procedimenti in corso. Sì, in realtà questo deve essere innanzitutto un impegno della procura perché i processi poi si fanno anche perché vengono preparati adeguatamente da parte della procura della Repubblica. Certo è che, voglio dire, nel distretto di Salerno esistono troppi processi pendenti per, diciamo, traffici di sostanze stupefacenti. Cioè c'è un numero di processi pendenti che in qualche maniera sarebbe compatibile con una visione di Salerno come capitale mondiale della droga, cosa che francamente mi pare esagerata. Quindi è evidente che questi processi vengono fatti, diciamo, devono con il concorso di tutti essere anche portati a compimento, anche perché voglio dire, altrimenti sono destinati a giacere senza mai trovare una loro conclusione. Questo, insomma, ovviamente sarà innanzitutto un impegno della procura a fare quello che è necessario fare perché questo possa avvenire. E il Vallo di Diano continua a bruciare senza sosta ormai da diversi giorni con le squadre antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano impegnate su diversi fronti. Ieri ancora fiamme nella foresta Cupone mentre un nuovo incendio è divampato sul Monte Vivo. Pare che le fiamme non siano disposte ad abbandonare il Vallo di Diano. Da diversi giorni le squadre del servizio antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano sono costrette ad intervenire su vari fronti con roghi anche difficili da spegnere e per i quali si rende necessario l'intervento degli elicotteri per provvedere allo spegnimento delle fiamme che peraltro resta anche particolarmente difficoltoso. Prova ne è il fuoco che da diversi giorni continua ad ardere in foresta Cupone tra Sala Consiglina e Atena Lucana che dopo interventi che sembravano risolutivi a causa del vento e della folta vegetazione secca presente nell'aria tende poi a riaccendersi. La giornata di ieri è stata caratterizzata ancora una volta da un'intensa attività delle squadre dell'antincendio boschivo che sono dovuti intervenire nel pomeriggio su un nuovo rogo divampato sempre a Sala Consiglina ma sul versante opposto a foresta Cupone e precisamente su Montevivo nella parte più a sud del territorio salese. Un vasto incendio divampato intorno alle 15 con la segnalazione giunta alla Sala Radio della Comunità Montana da parte dei carabinieri forestali di Padula. Immediatamente sul posto per intervenire è giunta la squadra antincendio del distaccamento di San Rufo guidata dal caposquadra Ricciardone che ha poi richiesto l'intervento del mezzo aereo per lo spegnimento delle fiamme. Nel pomeriggio di ieri è ripreso anche l'incendio in località foresta Cupone che sembrava essere stato domato. Le fiamme sono partite questa volta dalla parte sottostante con gli uomini del caposquadra del distaccamento di Padula Mattia Casalnuovo che si sono trovati ad operare in grandi difficoltà e pericolo trovandosi il fuoco alle spalle. Operazioni di spegnimento interrotte nella serata intorno alle 20 quando il buio ha reso impossibile il prosiego con le squadre che hanno lasciato località foresta Cupone per riprendere le attività di bonifica dell'aria questa mattina con una squadra di supporto posizionata sul versante Lucano. Per ciò che riguarda invece l'incendio sviluppatosi sul Monte Vivo, il tempestivo intervento degli uomini del caposquadra Ricciardone ha consentito di circoscrivere in breve le fiamme facilitando l'intervento dall'alto dell'elicottero regionale. La situazione sul Monte Vivo era apparsa critica al primo intervento viste le alte lingue di fuoco ecco perché è stato richiesto anche il supporto dei vigili del fuoco a difesa delle abitazioni poste nelle vicinanze. Sul posto anche carabinieri forestali del comando stazione di Padula e i DOS arrivati nel tardo pomeriggio data l'intensità degli incendi boschivi in tutta la regione riuscendo a domare le fiamme e consentire questa mattina le operazioni di bonifica. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione a Sant'Arsenio al centro la situazione degli impianti sportivi locali per il gruppo si cambia non ce ne sono di disponibili interviene il vice sindaco Rosario Capozzolo a fare chiarezza. Continua il botta e risposta tra l'opposizione e la maggioranza a Sant'Arsenio il gruppo si cambia questa volta mette sul tavolo la questione delle strutture sportive locali Game over ironizza sui social quest'anno niente sport grazie alla nostra amministrazione non ci sono palestre disponibili i giovani atleti sentitamente ringraziano. Non ci sta il vice sindaco Rosario Capozzolo è necessario fare chiarezza sostiene riguardo alle notizie diffuse sui social nei giorni scorsi dalla minoranza con le quali si evidenziava l'indisponibilità delle strutture sportive per il prossimo anno. La verità è un'altra per la palestra comunale in via Florenzano la data prevista per l'ultimazione dei lavori il 15 ottobre. Conclusi gli iter procedimentali potrà essere affidata alle associazioni per basket e pallavolo. Il campo sportivo comunale Fratelli Cardiello è già disponibile per l'utilizzo e sono in corso le procedure per l'affidamento. Ne hanno fatto richiesta due associazioni locali. Ieri sono iniziati lavori riguardanti i campetti di tennis e calcetto in località difesa. Per il palazzetto dello sport sono stati di recente eseguiti lavori di adeguamento alla normativa antincendio. La struttura è dotata di parere coni e a breve potrà essere affidata in gestione. Tutto è documentato. Gli atti e le informazioni, conclude Capozzolo, potevano essere acquisiti facilmente recandosi alla sede comunale evitando inutili quanto dannose polemiche sui social. Una bambina di Agropoli, Maranabel, di appena due anni potrebbe soffrire di una rara malattia genetica. I genitori hanno lanciato un appello per avere un sostegno economico a coprire le spese che serviranno per stare vicino alla loro piccola che sarà ricoverata al Gaslini di Genova. È partita allora la gara di solidarietà. Potrebbe soffrire di una rara malattia genetica. La piccola Maranabel è stata portata dai genitori nelle scorse settimane in diversi centri medici specializzati, tra cui l'azienda universitaria ospedaliera Federico II di Napoli, ma purtroppo non è stata ancora resa nota dai sanitari una diagnosi precisa. La piccola è una cittadina di Agropoli di appena due anni. Nei mesi scorsi Maranabel ha iniziato a manifestare una regressione delle competenze motorie e la comparsa di disturbi del movimento. Sono quattro mesi che la piccola versa in queste condizioni. La bimba è già seguita nella città di Agropoli da una struttura sanitaria per ritardo dello sviluppo psicomotorio. Già da quando aveva un anno non camminava, fa sapere il papà. La speranza dei genitori è la visita fissata all'ospedale Gaslini di Genova il prossimo 12 ottobre, dove la piccola dovrà essere ricoverata. I genitori hanno lanciato un appello sui social per avere un sostegno economico che servirà a coprire le spese di Vito e Alloggio durante i giorni di ricovero della loro piccola. L'appello del papà a Vito Marotta è quello di essere sostenuto per le spese che serviranno a Genova. Per chi volesse donare è possibile fare la propria donazione al seguente IBAN IT 69O 3608105 1382 466 1414 6623. Intestato a Vito Marotta. Dalla comunità montana Vallo di Diano la distribuzione di nuovi tablet presso le scuole secondarie di primo grado del territorio. Tablet in arrivo grazie a strategie aree interne e Amazon. 160 tablet in arrivo dalla strategia nazionale aree interne da distribuire nelle scuole del Vallo di Diano. Giovedì prossimo 17 settembre presso la nuova sede della comunità montana Vallo di Diano, ente capofila per la strategia delle aree interne Vallo di Diano, saranno illustrati i dettagli dell'azione che consente di dotare le scuole secondarie di primo grado di qualche tablet che potrà rivelarsi utile e strumento per venire in aiuto degli studenti che non ne sono in possesso e poter così proseguire con apparecchiature adeguate le attività di formazione scolastica. Un importante riconoscimento per il territorio che arriva dal Ministro per il Sud Provenzano che si è occupato di individuare le sei strategie ad aree italiane a cui destinare parte dei tablet ricevuti in donazione da Amazon, leader mondiale del commercio elettronico. Una donazione di grande rilevanza per alcuni ragazzi italiani che potranno così essere dotati delle indispensabili apparecchiature elettroniche e che sia durante l'emergenza Covid che in questa fase di ripresa si stanno rivelando anche utili strumenti per superare un disagio che è stato evidente nella fase di lockdown. A donazione ricevuta il Ministro per il Sud ha voluto individuare sei aree interne delle 76 presenti in Italia a cui consegnare i tablet e tra queste è stata individuata anche l'area interna del Vallo di Diano, unica beneficiaria in Campania, che riceverà 160 tablet. Si tratta, dichiara il Presidente della Comunità montana Raffaele Accetta, di un fatto che ci inorgoglisce e responsabilizza ulteriormente ed è per noi una sorta di riconoscimento per la quantità e la qualità del lavoro svolto negli ultimi sei anni. I 160 tablet a disposizione, come deciso dal lente montano, saranno destinate alle prime classi degli istituti secondari di primo grado, prima media, ricadenti nei 15 comuni componenti lente montano. Un dono simbolico, sottolinea Accetta, che non risolve le mille difficoltà che le scuole sono chiamate a superare da questa terribile pandemia. Un gesto di vicinanza, di stima e di apprezzamento per il periodo di grande difficoltà ha dovuto al perdurare dello stato di pandemia, cui coraggiosamente sta facendo fronte tutto il sistema scuola, dai dirigenti agli alunni. Ringraziamo il Ministro per il Sud, dichiara in conclusione Accetta, che pone al centro dell'azione ministeriale gli alunni e i loro bisogni. Condividiamo questo approccio che abbiamo sempre adottato per l'istruzione della strategia d'area a nostra conduzione. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Rieccoci tornati in studio, andiamo ad Acquara dove la comunità ha festeggiato Nonna Rosa per i suoi cento anni. Sono giorni di festa nel territorio del Vallo di Diano, Tanagro e Alborni. Nelle prime due settimane di settembre si sono festeggiati ben tre centenari, l'ultimo in ordine di tempo sabato scorso, quando la comunità di Acquara ha festeggiato i cento anni di Nonna Rosa d'Urso con la presenza del sindaco Antonio Marino. Punto di riferimento per i concittadini, la neocentenaria è stata festeggiata in piazza dopo la Santa Messa di Don Antonio Calandriello, che durante la celebrazione eucaristica ha fatto gli auguri a Nonna Rosa da parte sua e dell'intera comunità acquarese, regalandole una pergamena. Nonna Rosa, molto emozionata, con parole semplici e dolci, ha ringraziato tutti i suoi compaesani. Subito dopo si è svolta una piccola cerimonia nel largo attilio Magi. Il sindaco Antonio Marino ha augurato a nome suo e dell'amministrazione buon compleanno a Nonna Rosa, mettendo in evidenza la figura della festeggiata, esaltandone qualità e bontà. Il primo cittadino ha poi consegnato a Nonna Rosa una targa in ricordo di questo magnifico traguardo. Alla donna si legge testimonia attiva di cento anni della nostra comunità, che ha attraversato momenti difficili e momenti ricchi di speranza. A zia Rosa, riferimento costante di valori fondanti della nostra cara acquara, tantissimi auguri per questi suoi primi cento anni. Dopo gli auguri del sindaco, anche i nipoti hanno letto un pensiero alla nonna, augurandole altri cento compleanni. Diversi comuni del Vallo di Diano aderiscono al Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo rivolto ai cittadini che possono fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale. Anche quest'anno diversi comuni del Vallo di Diano aderiscono a Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo per numero di fotografie raccolte. I cittadini di oltre 40 paesi a livello globale, tra cui dal 2012 l'Italia, sono invitati a fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendone gli scatti con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia. C'è tempo fino al 30 settembre per caricare la foto e provare a vincere il concorso. Ad Atena Lucana, i monumenti che possono essere fotografati per il concorso sono la Torre Medievale, le mura megalitiche di Serrone, il Museo archeologico Elena d'Alto, la Cappella di Sant'Antonio agli Argini e il Centro Storico. A Padula partecipano al concorso il Museo Civico Multimediale, l'Eremo di San Michele alle Grottelle, il Battistero di San Giovanni in Fonti, la Certosa di San Lorenzo e l'Abbadia di San Nicola al Turone. A Polla si possono fotografare il Santuario di Sant'Antonio e l'Elogium. A Teggiano in concorso la Chiesa della Santissima Pietà, la Chiesa di San Francesco, il Monumento ai Caduti delle Guerre Mondiali, le Steli Romane di Teggiano, la Guglia di San Cono, l'Antico Sedile Civico, l'Antico Cippo Romano e il Chiostro. Per chi partecipa a Vicky Loves Monuments sono previsti premi nell'ambito del concorso nazionale e la possibilità di partecipare alla competizione internazionale insieme a scatti raccolti da più di 50 paesi in tutto il mondo. Sono state rinnovate nei giorni scorsi le cariche del Forum dei Giovani di Polla, Luigi D'Andrea è il nuovo coordinatore. Sono onorato di rappresentare un gruppo di ragazzi fantastici, ci siamo messi in gioco per valorizzare le nostre radici e creare un futuro migliore. Ripartiamo da qui, da Polla, uniti da un unico grande obiettivo, far risplendere il nostro paese. Sono le parole del neoeletto coordinatore del Forum dei Giovani Pollese, Luigi D'Andrea. Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo si sono tenute domenica scorsa nell'Aula Consiliare Santa Chiara. Il vicepresidente Antonio Caggiano, il segretario Antonio Ferramusca, il tesoriere Bruno Soldi, gli altri membri Mario Loviso, Luigi Di Leo e Marco Del Bagno. Oltre ad una grande partecipazione di giovani pollesi, presenti per l'occasione anche i consiglieri del Forum dei Giovani Provinciale, Giovanni Calandriello e Pasquale Rinaldi, che nell'augurare buon lavoro e di realizzare grandi cose alla nuova squadra, hanno ringraziato il coordinatore uscente Mario Loviso per quanto fatto con serietà e passione in questi anni. Lo scorso giugno, nell'ambito del bando Giovani in Comune, il progetto del Forum di Polla Cultura e Lavoro al Servizio dei Giovani si è classificato all'ottavo posto a livello regionale, finanziato per un importo di 12.900 euro. Nelle prossime settimane stileremo il programma annuale, ha assicurato il nuovo coordinatore d'Andrea. Il Forum dei Giovani di Monte San Giacomo ha dato ufficialmente l'avvio alle attività del progetto Officina Culturale e Creativa, realizzato con il finanziamento di 15.000 euro ottenuto nell'ambito del bando Giovani in Comune. Le azioni dei progetti realizzati in collaborazione con QS & Partners prevedono l'apertura di un punto informativo a beneficio dei giovani e della collettività presso l'Officina Cultura all'interno di Palazzo Marone che il Comune ha destinato quale sede del Forum dei Giovani dove si svolgeranno attività di orientamento per l'avviamento al lavoro autonomo e dipendente. Laboratori di co-working per la progettazione la promozione di eventi e di iniziative di riqualificazione ambientale, workshop formativi, promozione di indagini territoriali e concorsi di idee finalizzati ad individuare i bisogni del territorio e trasformarli in azioni concrete di sviluppo. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.